Un parroco di frontiera impegnato tra la gente e per la gente, un parroco abituato a vivere situazioni complesse, un parroco di un popoloso quartiere che lo rispetta e spesso ha paura. E Don Riccardo Agresti, parroco della parrocchia Santa Maria Dolorata alle Croci ad Andria all'interno del quartiere Croci Camaggio, è da sempre impegnato al fianco del territorio e dei carcerati per restituire dignità ed opportunità. Da questa idea, dopo la costruzione dell'oratorio Sant'Annivale di Francia, è nato il progetto Senza Sbarre, ma l'attività di Don Riccardo Agresti evidentemente a qualcuno non piace. E nei giorni scorsi sono arrivate minacce non certo velate che hanno scosso prima di tutto la comunità e poi anche un prete di frontiera abituato a vivere tra la gente. Ieri sera purtroppo è successo un fatto spiacevole, dicevo alla comunità, nella messa della cena del Signore dove pregate per i sacerdoti perché prendersi cura nella globalità e stare per la strada, ascoltare la gente, essere nella prossimità significa che calpestiamo quelli che sono i piedi degli altri. Nel nostro territorio ci sono delle realtà importanti di arresti e così via. Evidentemente il nostro modo di agire sta dando fastidio a qualcuno. È brutto essere minacciati. Io non denuncio attraverso le telecamere. Lo faremo nelle sedi preposte, ma dico di stare attenti perché questi nostri territori stanno allo sbando. Lo abbiamo detto in contesti diversi, ma chi ascolta la gente sa come si sta nuovamente impossessando dei territori. Ci sono ragazzi, giovani che fanno paura, ma proprio perché sono collegati a situazioni molto gravi. Quindi questo gli organi preposti lo sanno. Si tratta di dare sicurezza alla gente. Chi si espone in questo caso che deve stare vicino, altrimenti diventa una barzelletta, dire che staremo accanto e poi dopo, il giorno dopo, uno fa tutto il contrario, questo non avviene da parte nostra. I nostri sacerdoti lavorano in questo modo perché il Signore li chiama. Dobbiamo mettere anche in conto che magari veniamo sputati, veniamo schiaffeggiati e che magari veniamo insultati pesantemente. Nel frattempo però il progetto Senza Sbarre prosegue la sua opera. Il progetto Senza Sbarre è un'opera di Dio adesso. Tutte le comunità sono coinvolte, non ci sarà nessuno che potrà arrestare questo processo di rinnovamento all'interno della nostra società. Il Vangelo è da duemila anni che sta lì e che ci dice e ci sollecita di andare avanti. Noi seguiamo Cristo. Non sono le intimidazioni, non sono le minacce, non sono episodi eclatanti che potranno fermare questo progetto. Grazie a tutti.